Ciao ragazzi, sono Nicolo e oggi siamo in un nuovo video, il primo video della cucina. Ragazzi, oggi cucineremo sushi. Allora, guardate il riso, però non è venuto molto bene questo riso, però comunque proviamo. Allora, ora vi spiegheremo il procedimento. Allora, bisogna prendere il riso normale, cuocerlo, puoi mettere un po' di aceto di riso, per farlo raffreddare, e poi esce questo. E poi lo scaldi un'altra volta, ma poco, e poi viene questo. Il riso. Allora, ragazzi, prima di tutto bisogna andare a lavarsi le mani. Non a lavarsi, a sciacquarsi le mani. Prima a lavarselo, ovviamente. Il mio bisogno di lavarsi le mani, anch'io, a sciacquarsi le mani, perché sennò si attacca il riso. Il riso, vedete? E così se lo mangia. Vabbè, sciacquiamo le mani. Eccoci, ragazzi, leggermente. Ok, allora, si prende. Allora, qua sono le mombre, che stai da pagare? Un pezzo di riso. Poco, però. Poco riso. Poco riso. Poco riso, si fa così. Raga, ve lo ridico, non è venuto molto bene, però, comunque, si può fare, si può fare. Raga, stasera c'è X. Fai una cosa, domani sera. Fai una cosa, fai tipo delle palline, perché così non verrà mai. Fai, fai delle palline, oh, frate, così non verrà mai, vedete che devi fare solo la forma, zio, eh? Vedete che devi fare solo la forma, non puoi metterla là. Ecco, una pallina così, noi abbiamo fatto delle palline. Bisogna compattarla bene, compattarla bene, poi si appoggia sul tovaglio, togliamo tutto questo riso che non ci bisogna sprecare il riso. Allora, fai il riso con il salmone, e vi fa un taglio. Io lo faccio per, io lo fa per in orizzontale e lo faccio per in verticale, perché mi viene più comodo, ovviamente. Come vi è più comodo, voi? Questo qui è il riso molto bello. Ragazzi, mi è venuto così. Così, questo pezzo di sushi. Non sono perfetti, però, per me io voglio dire il ristorante. Molto meglio, però comunque, raga, non è male. Vedremo, vediamo, cosa, quanti sono, usa anche quello, eh? Sì, sì. Ok, so che non ci rimani? No, no. No, io me lo devo fare a fare a voi. Però, poco, perché poi ci, cioè, intanto lo prendo ancora, ok? Ok, questo lo prendo. E faccio una polla. Una polla di polla. Foglio di apela di polla. I miei più arrotondati sono i miei, capito? I più arrotondati. Non sono tuoi. Cioè, sono quelli fatti da me. Ne usciranno pochi, raga. Ma che pochi, perché? Tu ne prendi una balanga, io ne prendo abbastanza poco. Devi prendere come le prendo io, frate. Ti consigli di farlo come bella? Eh, no. Ho fatto anche ora la pallina, forse è una del te che bisognava. C'ho quasi le mani. Vedete, ragazzi, ho sempre ragione. Quindi, raga, facciamo le mani. Guardi le mani. È lo stesso o buono, però? Buono, però. Lo taglio lo stesso. Questa roba qua. Marrone. Ah, questo qui. Il mio è venuto bene. Guarda. Guarda il mio è venuto bene. Dopo alla fine vi facciamo vedere tutto. È venuto benissimo il suo. Benissimo, raga. Questa è venuto. Anche il suo è venuto bene, raga. Poi la prossima volta, se lasciate... Se arriviamo a 10 like, faremo un altro video del sushi, però faremo quello con i rollo. Lo so ma chi. Lo so ma chi. Riragiamoci a lavar le mani. Potevi asciugare, eh? Noi siamo stati i problemi di MasterChef. Forse non lo sapete. Non si vede, però. Vero, ho fatto. Ah, ya. Perché il sushi non si vede. Eh, no, perché non... Cioè, non è molto preparato. No, sushi non è molto preparato. Prima volta, cuciniamo il sushi. Cioè, una volta abbiamo fatto, abbiamo comprato tutto, è larga, tutto. Però l'ha fatto la nostra madre. Però è il suo Maki. E l'ha venuto tipo stra bene. Stra buonissimo. Deteci se questa serie di video vi piace. Perché anche a noi ci divertiamo un sacco. Perché il nostro ci piace un po' cucinare. la sua mia palla che tira in bocca a qualcuno. No, scherzo, ovviamente. Però... Uh, guarda come è venuto. Fai farlo. E la un po' di lì se n'è andata. Uh, cos'è sta cosa? C'è? È pittura. Questa cosa. Ah, Deu, hai già fatto il tè? Sì. Uh, che bella palla. Che bella palla di bello. Sì, da bella palla. Ci spettiamo. Pochissimo le mani. Ok, qui, qui. Poco a poco. Oh, di me. Allora, sì. Baby, hai... Da, 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 da. Ragazzi. Un'altra. Ma dove? Fra. Fra, ehm, fra 18 Inter. Lo salutiamo. Eh, da seguire il suo canale perché è molto bravo. Il mio amico. È un mio compagno di classe. Alle medie. Ora, ragazzi, non diamo alle medie. Quindi... Andiamo, eh, puttane. Eh? Andiamo, ah? Alle medie. Eh, sì, guarda, questo qui è il mio secondo. Guarda, è tipo un nigiri. Eh, questi sarebbero un nigiri. No, però il mio è proprio fatti male. Però sarebbero un nigiri. Quello che ci avanza faremo il sashimi. Il sashimi. Il sashimi di... Dopo il... Salmono. Il due salmono. No, dopo proviamo a fare, tipo... Ma devi mettere poco perché se no... Guarda quanto... Fai, metto un altro, facciamo questo e poi un altro. E poi vediamo cosa ci resta. Eh, tu ne metti un... Un milione. Ragazzi, la mia palla. Poi la metto sul sushi. I gonci e traspi. Questo io lo faccio un po' sottile perché... Mi verrà bene, sottile. No, questo qui me lo prendo tutto io, eh. Beh... Eh, guarda quanto ne ho, ma che cazzo. È un botto per te. Non so. Sì, io non riesco a fare un altro pezzo. Non riesci? No. Perché non riesci? Non è un pezzo di quello. Sì. Ti ne do un pezzo, aspetta. Perché è poco, cioè, raga. È poco. Non riesco a farlo. Eh, lo tagli in... Come lo taglio? Così? Sei scemo? Eh, è sottile, è sottile. Guarda cosa faccio adesso. Ma fai il doppio? No, così. Ah, così? Il salmone più... più ridotto. Così? Non ci stanno. Io adesso con questo salmone qua faccio... Perché il riso è finito. Ah, ora? Ora, ricompattiamoli un attimo. Tutti, un po' tutti. Ecco, tipo così. No, 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 no. Non ricompattiamoli, basta. E guarda che... Che ci sfalda tutto. No, basta, no. Questo qui è il mio. No, questo qui è il più bello fatto bene. Sto spostando, vabbè. Ok. Questo qui è il mio e il mio secolo. Grazie, per... Fagli vedere... No, faccio io. Allora. Questo è il risultato di... Questo è il risultato di... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove pezzi di salmone. Ragazzi, è uscito questo. Spostate la telecamera. Se sì, ma glielo faccio vedere. Sono andato a sciocco alle mani perché sono tutti pieni di riso. Mi metto a fuoco, raga! Fuoco! Raga, che? Eh, si è bagnato. L'acqua, l'acqua. Ok, raga. Questo è il risultato di risultato. È venuto bene. Molto bene. Ora con questi pezzi... Questi pezzi. Io vado a prendere quattro pezzi di piatto. Faccio vedere un attimo a mia madre, intanto che prende un altro piatto. E' un mio frutto. E io cosa so? Ma, ma! Guarda, raga! Ah, io sono molto male. Ecco, qua c'è un piatto. Cosa c'è un sushimisto? Sì, un sushi misto, diciamo. Le avevamo previsti tre a testa. Sono nove. Quindi tre a testa. Esattamente. Tre in due, dicevamo. Sushi sì, nove invece. Quanto mangio io? Tre, tre, tre. Tre, sei, nove. È vero, è vero, raga. Il papà è oggi partito. Purtroppo, perché... Ok, dai. Allora, qua facevano i sashimi. Sì. I sashimi facciano anche questo pezzo di sashimi. Con delicatezza, raga, vi consiglio di fare... Con delicatezza. Ok. Guardate come è bello, ma... Come è bello. Bravo! Da undici minuti.